L'isola di Procida è una delle ultime rivelazioni turistiche, ma è anche il paese dove la Nartin ha ambientato il romanzo di Graziella che si sta traducendo in film. Al benvenuto rispondono in forza i pittori. La produttrice del film ha indetto un premio di pittura, 200.000 lire più 3 acquisti di 100.000. Auguri alla Fischer! Questo è Purificato. E questo è Maffai. Corpora fissa nervosamente sulla tela il suo motivo. Più flemmatico trombadori. I ragazzini si interessano alla tecnica di monachesi, spatolata che diventa segno. La parisello culla sulle onde la propria ispirazione. Qualche perplessità degli isolani di fronte all'astrattismo di Carmelo, dove le somiglianze si fanno problematiche. Non discutiamo tra pittura astratta e figurativa. Se ci è concesso un innocuo scherzo, diremo che l'autore di questo paesaggio si chiama Consolazione.